ragazzi siamo tornati io sono papi egli e samuele oggi giocheremo a roblox stiamo facendo partire la gang di animatronics world a passare il volere perché questo qua si era verso la canzone andiamo passando qui? no non è dove la posa va bene così faccio gioca? si come siete bene ho aumentato poca curiosità molto bene però non mi ricordo i tasti allora questo va di qua questo va di qua avanti perché non va avanti ma questo qua poi il cornis mette in prima persona lo faccio così con questo muovo e questo salto esatto con i smet in prima persona e con i smet in prima persona e con i smet in prima persona e con i smet in prima persona buono bambino papi dimmi allora gioco di ruolo mappe allora gioco di ruolo mappe 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 FNAF SL FNAF SL bisogna noturna bisogna noturna poi seguirmi dove sto ecco un ben bruttore gioco bruttissimo e poi non si vede avvicinate benissimo e guarda qua io ho quasi la notte si vede bene devo fare cortina c'è una cortina qua su come facciamo sempre detto un personaggio bello ultimo personaggio poi oggetti ecco qui allora non c'è come si fa contro sta aspetta faccio fattura quasi amica di freccia chitarra giocattura ma questa so vado a fare la foto non lo fare ma ancora sto cercando sto cercando a a bonbon fa questo perché io devo fare la cattura buono scopo potrei fare la notte posso mettere pausa no vabbè non fa niente vado ok 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 ti piace così si ok poi dopo la salviamo a bassa e andiamo a giocare quindi ora vai che devo fare qui chiudere non c'è di niente però hai qua ci vuole bisogna trovare che inizio e se che secondo me 1 2 3 4 5 toglieranno ma la cena io non voglio run e che si è incastrato si no vabbè ma vuoi ma io te lo dico se non posso giocare così perché non riesco a comandarlo vedi non lo so comandare te lo puoi fare te lo puoi fare ma non ce la posso fare per niente 1 2 3 devo girare poi devo premere col mouse una parola toglierà toglierà run 1 2 3 4 5 corri più veloce della luce sopra le casse run si non è giusto perché avevo premuto cosa ti premete avevo premuto non è giusto 1 2 3 4 5 non corrigerà non mettergli da eh ma questo si incastriccina la porta vedi è impossibile 1 2 3 4 5 via rannissimo se no sì ciudo ciudo anche di qua ci buddi si chiude non lo vedi ma ho levato l'energia oh vabbè siamo bella portida ai non vale quella non vuole è un po' ecco energia passo ho trovato chiudere la beta No, non si è chiusa, ha laggato E' nuova, si è già diattivata Si è riattivata sola Si chiude la volta in faccia Non chiudi la mente, non si è entrare ai condotti Uno Due, no Nacciaverò Verdi solle calcagna Non metterò Ma che non ha detto che sta dietrissimo Per troppo di baciarsi Uno, due, tre, quattro, cinque No, corri Corri, ranna No Progione, progione Passato dentro, progione Sì C'è nessun mese, come mai? Conto tre secondi Uno, due, tre, quattro, cinque Senza ranna, il brugio No, non lo brucio No, attendirà il brugio No, devi togliere il brugio No, devi togliere il brugio No, devi togliere il brugio Uno, due, tre E poi non ci accontro Io sto con la Milano No, mi stiamo a un chilometro Non mi stia a un chilometro Non mi stia a un brugio Non mi stia a un brugio Eh, mi devo getto al contrario Come ne fai? Uno, due, tre Che sto ancora qua di... Uno, due, tre Quattro, cinque Non so manco dove stai Non si vuoi più, come mai? Non si vuoi più Che sta veramente troppo avanti qui? Si è baccato Perché a me si muovete no? Si è baccato Si è baccati Si è baccati Si è incastra da dentro Eh Si è incastra nella porta, vedi? No, no, no Non riesca a muovere così Fammi giocare col cellulare Invece no Ti faccio il computer e non lo so usare Vedete? Non lo so usare Conta, conta Allora vai, non cambia Eh, stavolta non ho scordato Eh, va bene, patate Conta dopo Eh, buh Io sto cosa nani Che? Conta Uno Due Tre Quattro Cinque No Toglieranno Per giù Ciao No, sta fermo Uno Conta, conta Uno Due Tre Non si giuro, va Uno Due Tre Quattro Cinque Un Run Sì Eh, si è bloccato solo la porta adesso Uno Due Tre Due Vedi che sono ancora qua i muri Uno Non riesco a muovere Tre Quattro E Cinque No Cosa ti diceva? Cos'è la 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 cosa? Si è messo su un tavolo Si mette sul tavolo Altrimenti non respira sotto Vedi? Io sento come c'è una puzza Uno Due Tre Quattro Cinque Run Un Un bruci Senza Un brucio no sta correndo ancora si è sfuggito di brutto stavolta è una volta buona di vedere la seconda volta stiamo scherzando è successo un problema con la porta della stava chiedendo 1,2,1,2,3,4,5 non metterà si porta in faccia si porta in faccia si porta in faccia si porta in faccia ma non vale la vittoria non vale perchè mai io posso fare 30 mila volte la venta ma mettiamo un'altra regola apposta per te come al solito quindi non hai vinto manco stavolta mettiamo le regole ecco qua buongiorno ecco ok ora 1,2,3,4 allora ragazzi cambiamo location perchè abbiamo bisogno di un po' di spazio in più per giocare io lo metto qui sto anche più comodo ecco qui si respira meglio così non si brucia altrimenti si stava bruciando il computer ora prendeva fuoco tutta Napoli andiamo 1,2,3,3,4,5,6,7,8,9 no corri d'altro lato si no vai da contare tu la sei partito fratello ma che bruglione che bruglione non so partito da la è no sei troppo lontano sotto di te passo la porta ti tra passo la porta non metterla voglio non metterla voglio 1,2,3,5 eh 3,5 i numeri arabi su questi qua no corri e dai chiuditi 1,2,3,4,5 run si 1,2,5 è 1,2,5 adesso fa 1,5 sembrate che leggermi più presto perché io sbaglio perché mi sento un giro troppo lentamente proviamo da qui è uno stai camminando e va boh si rifà la si rifà cori e l'ufficio sotto svolto vai contare che conta uno è un essere cambiare ma di tutti stai cambiando più 1 2 3 4 5 ma perché di volta pensi che metti troppo tardi 1 2 3 power file e poi faccio 1 2 3 quindi non c'è bisogno mettere anni ci metto il tempo ci stelle calcagna fregato regato 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 mette il grande metteranno più intelligente dopo il suo tavolo dopo è finito bene così sono 15 e quando mette le da te e 1 2 3 4 5 che non si riesce a comandare con santi video a fine le porte 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 io no ci sento contare fino a cimera chiudica è stata davanti il teleco non vuole uscire non vuole uscire non è contato fino a cimera no ma perché compriamo fastidio se la fa deve essere qualche volta dove dire è ma tre ore per girare come la chiusa stavo ma poi va bene così per la voglia la mia vera vedi sono otto solo basta diciamo no 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 ma fino a scegliere come si continua con questa allora no c'è un altro fnaf 2 che sto sogliendo delle camere oggetti delle camere di fnaf 2 ok togli i giochi di ruolo fnaf 3 fnaf 3 e dove stanno le mappe? chi non vuole vedere? emozioni a queste le mappe? no queste le emozioni e beh ecco le mappe fnaf 3 e telecamere oggetti telecamere di fnaf 3 eccola qui poi come si togono le altre qua si va su inventario dove sta? la compagnia? bisogna notturna seguirmi tu ti mettere qui ok c'è la telecamere di mano ah c'è la telecamere di mano si ok ah sui te la porta questo è il bagno no vabbè no che ti fa? qua dentro? si è sederti ok papi ok è sta in seconda pezza una vecchia buggata la prima ok papà il gioco che facciamo quasi sempre quando tu mi vedi dalle telecamere devi dire allo? no devi dire hello e mi devi mandare due vuoi le valete le camere però perchè mamma guarda guarda le regole quando per esempio tu devi fai quando io dico qualcosa error devi fare così e devi iniziare questo computer per almeno 15 volte ok 3 2 1 che gioca ben inizio ma tu chi sei? springa trappa si eccoti alo e dai mandi ti mando alla stanza 7 7 fai vedere e vedi dove sta la 7 sta qua qui questa ok ok qui error ma che error? error ero tot no vabbè non ti ho detto guarda ve l'ho fatto ingegnere questo coso guarda se c'è che posso facciare più veloce ah va intatto si muove eh no sbagliato sbagliato ma va certe volte devi guardare dal tablet se sta nell'evento devi dire chiudi event ok e io dove sta nell'evento io vedo quale sono cioè ma tu devi no vabbè giù il torte di guardare proprio dal tablet allo dove stanza 7 stai e dove dove è la 2 dove sta la 2 che ne so questa ma proprio pure ancora 2 no no dove sta la 4 questa qua chi è se c'è così questo? è stato seduto è stato seduto è come la sedia che c'è al negozio come uno che funziona porta la canova dove va? avviate la sedia che tiene al negozio c'è la pagare in mano eh tieni quelle cose là che dove apparcivi per braccia i braccioli per coltrona si ma comunque capisci? certo certe volte devi guardare dal tablet se sono all'evento se sono all'evento dici più di vento perchè da perchè da dal computer non si possono vedere l'evento unione riguarda le spazio dal tablet audio error 1 2 3 4 5 6 chiudi vento e dove sta? che ne so se invedi una venta dal tablet devi chiuderla ecco qual'è il tablet? qua è questo il tablet ah ok allora ti vedo il tablet si chiudi vento ok chiudi chiudi vento ciao guarda 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 se lo passavo tu stavi qui chiudi vento se lo facciamo qui cosa si vede? ma si vede bene sono le due m ma quanti che cosa card verde si vede bene oh 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 hello 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 sta qua dietro ti vedo io sto qui io sto qui non vale i due m mi chiedi mi chiedi e mi chiedi e mi chiedi vai alla 10 ecco la 10 mi sto già allontanando eh! volo! ma male! poi li ho visto a volo che passavi più a volo, a volo, a volo! e dove devo andare? alla 4! non lo so, questa! eccola qui, vicino alla capa di morto, vai! ecco la 4 non guardare, non sto nell'evento! allo! ma male! allo! 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 è una cosa che sto solo sul computer! tu mi dovresti vedere da qui dal computer! io ti vedo da dietro al vetro! e non puoi fare allo! perché soltanto sei! e quando favo, lui attiva un sensore che lo fa fermare ma se non c'è una telecamera lì? non c'è stata la telecamera lì? non c'è stata la telecamera lì? non c'è stato! non c'è stato! non c'è stato! non vale! non c'è stato! stanza uno! stanza uno, dove si infascia no? dove li vanna? vai a... qui! vai alla stanza 46! détesta! andando a nove un'altra volta, dove sei partito, vai! si è voluto il corso di fa, la prossima è qui quattro le prossime è qui vatti qui e quel qui ecco di qua! ahahah ma adesso, non lo sai se lo sei in me o no? no, son le quattro! No, non scherzi, è l'una e mezza. Ma poi si è scontato dei condotti. Chiudi il condotto. Non sto nei condotti. Sto qui. In una sala dove non ci sono telecamere. Mi fiega sempre questo nell'acolo, sembra sempre che stai qui. Chiudi il condotto. No, troppo tardi. Ti ho visto, fai del loro. Sono riuscita, sono riuscita, sono riuscita. Troppo tardi, sono riuscita. Troppo tardi. Non vale, non vale, non vale, non vale. Non vale, non vale. Non vale, perché mi sono al tablet. Ma come non vale? E' visto al tablet, non vale. E' perché tu guardi sempre sul tablet. Ado erro. Ado erro. Fatto. No, vale. Ma non vale le telecamere. Ma che c'è? Ma se ti do di questo neanche, mi stai con le telecamere. Perché stai qua, non ti vedo. Allo? Ma non è le telecamere. Sono le quattro. Non è le cinque. Sono le cinque, torna alla stanza cinque. Se no mi dico. Ma come non ti do di stai qua? E con le telecamere? Non c'è, non c'è una telecamere che punta lì. Eh. Non ci sa, come faccia a vendita. Non c'è una sola questa qui che non ti vede. La numero uno. Tornò alla stanza 8, vai. Tornò alla stanza 8, vai. Ok, sono venuto allora. No, non posso dire perché vai. Ma sono mai visto. Oh, allo. Alla 8. Poi ti ho visto dalla stanza della telecamera. Dove sei andato? Adesso vai di qua. Aspetta. Mi è successo una cosa. Eccoci. Non mi è venuto. Ok, stai a prendere il fuoco. Devante la telecamera, guarda. Sono 8. Tutto a fuoco. Ma stai bruciando. Tutto a fuoco. Ma stai bruciando pure tu? No, va, io non posso bruciare. Eh, è un'attività di un'attività. No, va, io non posso bruciare. Non è 5. Non è 5. Ma va, io non posso bruciare una telecamera. Aspetta. da qualche parte c'è la cosa dove saremo il mutacolo con le cinture passe qui qui si qui si ok ok raga ok corriamo ma corriamo un bel like si vede al canale sempre a cassa facciamo la foto con su un po se non ci vede al canale guarda domani questa volta adesso qui questa volta va bene facciamo un po vi dite al canale ok ragazzi vi dite al canale Sì, che si deve andare a fare un salto. Si deve correre. Ranno, vanno a te dando. Ranno. Salta. Segui mi correre. Scusa, scusa, scusa. Scusa, scusa. 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 No, 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 non sto qui, non sto qui. Sto a salire. Raga, stop. Da là. Da là l'uscita. Le porte sono aperte. Eh, basta. Scusa, sta bruciando tutto qui. Chiudi le porte. Scappiamo via. Da bus. Torna in città. Vai. Siamo tornati. Sto bruciando tutto. Ok, togliamo questa versione otturna che orribile. E poi non si vede niente. Come si fa? Metto la torcia, va. La torcia? Sì. Metti la torcia. Io non vedo molto niente. Ciò che ti ruolo. Oggetti. Strumenti. Ho messo la torcia, va. Ho messo la torcia. Ok. Ok. Eh va. E mettiamo. Ok, ragazzi. Se il video vi è piaciuto, un bel like. E iscrivetevi al canale sempre 096. Come si fa a scenderla? Così. No. Così. Ok. Perché sta cambiando? Perché c'è il run. Ok. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale sempre 096. Metti un bel like. Ciao a tutti. Da Papi. Ciao a tutti. Ciao. 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 Ciao.